E' che oggi Napoli è un comune luogo per chi la vive Dove tutto sembra normale di mutare E' che è un nuovo comune per chi la vive Non lo so, non lo so Non lo so Non lo so Morti, ma sono un po' di rimotti E quanti sono? Pare che sia oltre 600 600 morti? Mi raccordi addosso All'altro uomo, uomo mamma, 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 quando stai? mamma, mamma, mamma la carità questa voce è voce accendendente si è andata a tutta parte di sparare e strillare e quasi alla parete rindanete e all'unità è un Dio stesso la niente la carità e all'unità la carità 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 la carità